L'abbraccio. Da quanto tempo non siete in montagna, in un bosco? Una settimana. E non è abbastanza. Io direi quasi quasi ci abbracciamo un albero a testa. E devo lavorare. E allora, abbracciamoci gli alberi, stabiliamo questo contatto con la natura e poi riprendiamo la nostra margine. Dai albero, vieni. Scegliti l'albero. Scegliti l'albero. Scegliti l'albero. Devo scegliere l'albero. Uno bello, eh? No, questo che ci ha più bisogni. Io mi scelgo un magro. Scegliti l'albero.